... eh sono questi? no sono qua No, mi sa che non ci sono qua, no? Non c'è se lì dove ci sono più gli alberi caduti bisogna tenere la destra e tirarsi dentro la palletta dietro qua? Forse sì. Non è che non me lo ricordi? Eh no, non sono qua. Non è che non mi lo ricordi? Non è che non mi lo ricordi? 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 Grazie a tutti.